La manifestazione cicloturistica senza classifiche, anche se poi in realtà, diciamo la verità, il tempo di percorrenza l'abbiamo preso, ma giusto per la gioia di sapere quanto tempo ci avete messo a scalare. Non attribuisce classifica, non attribuisce punti di categoria, ma si acquisiscono punteggi di partecipazione. 15 punti vanno a tutti quelli che hanno partecipato, validi per la classifica. Bene, detto questo, gli onori di casa naturalmente, non può che non farli, Riccardo Passorino, Presidente della società ciclistica, se si volete che l'Axi Liguria non può far altro che ringraziare sempre lui e i suoi collaboratori per l'impegno profuso, grazie. Allora, no parlo così, d'altro mi sentite? Ringrazio tutti i partecipanti, perché grazie a voi che questa manifestazione sta in piedi. Voglio fare un altro ringraziamento, gli applausi all'ultimo perché me li merito, ma li prendo tutti all'ultimo. No scherzo, un ringraziamento a tutti i soci della società e agli amici che mi hanno dato una mano a organizzare questa manifestazione. Purtroppo per i più, per i cavalli di razza di questa manifestazione l'abbiamo girata in cicloturistica per una serie di motivi, però mi fa anche piacere vedere oggi tanta gente che forse se fosse puramente agonistica non l'avrebbe fatta. Quindi per adesso rimane questa versione turistica, chiamiamola. Un domani chissà che torneremo alla vecchia agonistica. Fatemi dire solo due parole per la giornata. Al di là dei colori, al di là dei pensieri, al di là delle idee che ognuno ha oggi una giornata di liberazione. Ricordiamoci questo, ricordiamoci che se oggi siamo qui è perché qualcuno 70 anni fa ha fatto qualcosa per noi. Non dico altro e adesso passiamo alle premiazioni. prima società classificata, Bicistore. Premia la nostra socia Marcella. Fate una foto. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Dai, Pietro. Vieni anche te. Su. Poi, seconda società classificata, Ponte Decimo. Premia Andrea Meirana col trofeo Meirana. Un attimino. Meirana era un nostro socio storico che purtroppo non c'è più e la famiglia Meirana è sempre vicina a noi in questo evento e la ringraziamo pubblicamente. Quindi, il Ponte Decimo. Ponte Decimo. Ah, è venita a ritirarla. Poi, chi c'è? Eccola qua. Guarda, c'è anche il fiorelì. Ma non ci posso. No, ma non era iscritto. Vieni qua, foto, dai. Ti conosciamo da 50 anni. Claudia Lasagna, Claudia Lasagna, la prima donna. Angela Lasagna, la prima donna. Grazie.